1992 ero venuto qua a Romania in vacanza poi dopo ho iniziato a portare delle macchine a vendere e mi ha portato due macchine e un mio amico Franco da Asti siamo partiti da Asti siamo venuti giù con una Fiat regata che era di suo mio amico c'è una Lancia che si vedevano bene con la macchina Deezer siamo venuti giù e la strada non era come adesso non c'era l'autostrada uscivi dall'Italia è finita l'autostrada non capivi niente allora non ero capace a parlare non capivo niente ho conosciuto un mio amico scritto con la mano figura siamo arrivati qui e poi il problema era la lingua che non capivo niente a parlare non capivo niente allora non ero capace a parlare non capivo niente ho conosciuto un mio amico si chiama Nick che adesso è mio amico da allora un ragazzo aveva vent'anni allora come noi 21 22 anni anche noi avevamo vent'anni 22 e niente abbiamo portato queste macchine con lui al mercato c'era il mercato delle macchine come c'è anche adesso qui a Sibiu tutte macchine vecchie scassate noi con le nostre Fiat legate alla Lancia Prisma subito sono venuta la gente a vedere queste macchine di qua e di là e le abbiamo vendute e niente era un po' strano era tutto diverso che adesso c'erano poche macchine in giro gente tutta vestita verde arancione con i capelli sparati su legati sopra le donne strano proprio strano era bello altre volte siamo venuti con il mio amico a Tiro ma nel 95 penso con lui siamo venuti la prima volta dal 93 però lui non sa mai le strade si dice che si perde lui da solo qua dice che non può venire che si perde conosce le strade e quindi doveva venire sempre con qualcuno nel 95 siamo venuti qua ad agosto e niente praticamente abbiamo dormito in un hotel all'hotel Continental di nuovo dai era caro e abbiamo detto troviamo qualcos'altro da dormire un po' più economico che stiamo qua quasi un mese e allora un nostro amico fa c'è una camera una casa bella da affittare un alloggio andiamo lì andiamo dentro quest'alloggio era la notte avevamo già lasciato la camera dell'hotel e andiamo là dentro un orrore non so come descriverti un alloggio era normale una casa di quelli palazzi normali da dentro tutta moquette e come spegnere luce uscivano tutti scarafaggi formiche dappertutto tutti animali che camminavano e ho detto io qua non ci sto mai neanche per l'idea ti metti a dormire ti invadono addosso i divani camminavano non mi scarafaggi ma mi fai stare lì e lui fa ah beh no ma cosa c'è ma come cosa c'è io qua non ci sto non è impossibile stare qua solo che quella sera non avevo cosa fare ho dovuto dormire ho dovuto dormire ho dovuto seduto su una sedia perché non mi mettevo nel letto così mi dormito lì poi il giorno dopo un tattino andiamo via da lì perché io non posso dormire in quel posto lì e se sei arrabbiato io e Damiano sto mio amico c'eravamo camuffati nel senso fatta la moda avevamo fatto il pizzetto di bianchi l'orecchino l'orecchino al naso un po' cose così strane per qua ancora figurati allora ancora andiamo a casa di una nostra amica che era la cognata di questo nostro amico Bruno che è da tanti anni che qua a trovarla in visita e ci aveva una cucina e una camera abitava in centro della città di Sibio una casa vecchia lì in centro entriamo dentro c'era una ragazza lì vicino alla stufa noi andiamo nella sala ci offre un caffè di qua e di là e gli faccio a questa amica la nostra amica Nicoletta chi è quella tua amica lì no? ma è una collega di lavoro come si chiama? si chiama Senziana ha detto ma va bene se vuole uscire una sera però non si è neanche alzata la cucina poi è stato un po' se ne è andata e non è venuta neanche a salutarci e poi dopo alla fine a Natale l'ho conosciuto ed è diventata mia moglie figurati quella famosa amica che in piazza amica quelle ruote con le sedi di ferro costava 100 lei mi sembra il biglietto 100 lei adesso sarebbe 100 lei sono un sacco di soldi voglio dire adesso per fare un giro su quella giostra di ferro lì così da allora c'è tornei non era niente quei campi che avevano tolti i quattro zeli infatti siamo andati proprio intenzionati ad andare lì c'era praticamente una ruota con i denti sui sedini di ferro che giravano e tutti si divertivano su sta giostra era una cosa bella allora in piazza amica era sono andato ancora due volte al mare con mia moglie e mia cognata e poi ho detto non ci vado più perché tutte e due volte che sono andato a mare sono stato male mangiavo sono stato male tre giorni che ho detto basta non mi vede più male romani stop infatti ci sono più andato e poi niente dopo che ho detto che ho conosciuto mia moglie è nata mia figlia noi siamo stati in Italia sono sposato con lei stavo in Italia venivamo qua solo un po' in vacanza ad agosto e poi praticamente poi dopo nel 2007 mi sono trasferito direttamente qua in Romania ho aperto la carrozzeria e siamo stati qua ho aperto la carrozzeria e siamo stati qua ho aperto la carrozzeria e siamo stati qua